Salve a tutti, sono la dottoressa Anna Lisi, sono il responsabile dell'unità di ricerca di genetica dei caratteri complessi presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e istituto di ricerca e ci occupiamo di malattie epatometaboliche, in particolare in questi anni abbiamo lavorato alacremente tutto il tema lavorato per cercare di individuare sia biomarcatori diagnostici che nuovi bersagli molecolari per la terapia di alcune malattie epatometaboliche, in particolare della non-alcoholic fatty liver disease o malattia da fegato grasso. Questa malattia è una malattia diffusissima, è attualmente considerata la malattia cronica del fegato più diffusa e nei prossimi anni si stima sarà la maggiore causa di terapia antepatico. Nel nostro percorso abbiamo individuato una serie di molecole importanti che possono essere di sostegno per implementare dei pannelli di biomarcatori non invasivi di malattia che consentono sia una diagnosi precoce che una valutazione dello stato di malattia non invasivo cercando di evitare il ricorso alla biopsia epatica. Dal punto di vista dell'impatto invece su tutto quello che è comunque l'attività dell'ospedale i nostri studi, i nostri risultati sono di grande rilevanza per tutto ciò che è sia implementazione della conoscenza da parte di tutti gli operatori sanitari e quindi un volano rappresentano un volano per tutte le professionità sanitarie e in più c'è anche un vantaggio dal punto di vista della loro capacità di poter rispondere ai piani di cura e comunque al paziente.